Cheesecake e frutti di bosco. Una torta golosissima con una farcitura super cremosa che abbraccia la confettura ai mirtilli rossi e i frutti di bosco. Buonissima! Riduciamo in polvere i biscotti secchi, uniamo il burro fuso freddo, mescoliamo e compattiamo in uno stampa cerniera foderato di carta forno. Mettiamo in frigo a riposare. Nel frattempo occupiamoci della farcitura. In una ciotola versiamo il mascarpone, la vanillina, la ricotta e lo zucchero a velo. Incorporiamo al composto un uovo per volta e per ultimo aggiungiamo la panna fresca a filo. Riprendiamo la nostra base, versiamo sopra il composto, livelliamo bene e via il forno per un'ora. Quando si è raffreddata completamente versiamo sopra un generoso strato di confettura ai mirtilli rossi e decoriamo a piacere con i frutti di bosco e qualche foglia di menta.